Una gialla te la tolgo, però parla, rispondimi, di che varietà sei? Non mi sembra, no, non sei una taggiasca, chissà, forse sei una mortina, sei una colombaia, di certo sei Ligure, e sì, l'ho presa in Liguria, una pianta bonsai di olivo, sul balcone, lo so, è un po' patetico, il bonsai dell'olivo sul balcone qua in mezzo alla città, in mezzo al traffico, però io ho una grande nostalgia di quei territori, la riviera Ligure, e però 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 il 15 e il 16 giugno posso ritornarci, e sì, perché le aziende dell'olio riviera Ligure di OP ci invitano, vi invitano, per una visita, per un'esperienza, per assaggiare, per capire, per visitare, visitare i frantoi, visitare gli oliveti, per entrare in quel mondo, è un mondo che è rappresentato proprio da questa piantina qua, non proprio da questa, che è molto piccola, ce ne sono là di molto più belle e di molto più grandi, www.olivetiaperti.it, 15 e 16 giugno